17 e 40 minuti, Radio DJ, allora tra poco c'è l'ospite internazionale, quindi io farei così sistemiamo tutto per l'esibizione dell'ospite internazionale, facciamo i compiti tra l'altro ci salutano anche da Londra e dalla Svizzera francese è proprio la ciringhita sans frontiere, senza frontiere oggi su richiesta della Vale abbiamo preso da un altro sussidiario perché nella nostra sezione di scuola media, la nostra sezione di classe fa l'inglese l'altra sezione fa il francese, su richiesta abbiamo fatto il francese infatti il libro non ce l'abbiamo noi, neanche oggi descrizione delle persone, ripassiamo un attimo come si fa a descrivere le persone in francese, allora per forza Julie, brava la Vale è très jolie allora che comunque qualcuno dice il francese è atteggiamento e la Vale ne ha davvero eh certo Pina è tre tatoué allora come si dice sono alto 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 grand 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 poi sono grasso gros bravissima gros sono snello filiform mans mans e cosa manca? basso basso ah petit allora lo sapevo ok adesso i capelli ok poi facciamo la descrizione crespe allora abbiamo i capelli parlo per te capelli lu no parlo per te parlo per te volevi fare il francese per fare questo no dai vai vai capelli lunghi long intanto capelli come si dice? chapeau no chavel chapeau Valentina scusa hai voluto farlo perché è riporte ma infatti non è riporte in francese aspetta ci arrivo le chapeau le chapeau chapeau perché cheveux è cavallo cheveux è cheveux cos'è? è capelli perché cheval cavallo cheval chevo cavallone cheveux cheveux no cavallo cavalli cheveux che è capelli cheveux quindi lunghi si dice cheveux long long corti cheveux cur 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 segnate cur cur ricci frise lisci red raides cosa pensavi? eh tipo il colore castani chaten baron glacé brun brun scritto brun chaten io ti darei dei chaten no io gli darei un due perché comunque non mette i voti non mette i voti capelli biondi blond 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 allora adesso farete la descrizione l'una dell'altra capelli occhi e corporatura allora gli occhi i colori vabbè dai verde verde ma io nero ho gli occhi verdi ma da quando azur 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 gris grigi ce li hai un po' gris l'unghio e long luci o ricci raides red 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 raides perché l'avevo scritto non mi ricordava quel tipo le yeux un petit po' gris un petit po' azur e alcune giorni verte qualche qualche foie foie verte e tre belle tre belle e e long long e grand 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 e mince 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 le minne hai le minne grosse tieni le minne grosse ragazzi dai io io aspetto la campanella no dai Valentina sei tre jolie tre jolie mon fiancé mon fiancé non le chien ma fiancée qu'est-ce que tu veux les cheveux le cheveux marron un petit po' crespo tu es terrible les yeux marron bravo 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 elle est très jolie elle est elle est elle est ascolta sei bravissima pina guarda me un chien puoi dire è più piccola di me elle est plus petite de moi petite plus petite de moi que moi elle est elle est piscine piscine no magra no come si dice magro mince no mace mace è il femminile mace mince madonna meno male valentina hai voluto fare il francese non lo ricordavo c'è madonna c'è madonna c'è madonna ottia